in realtà non abbiamo testato alcun materiale sapete del duro spazio o d'altro sapete semplicemente gli stessi seggeli di una normale auto è una semplice normale auto nello spazio ma caro Elon non è proprio così perché a proposito di quanto hai appena detto è stato dimenticato sulla tua roadster semplicemente gli stessi seggeli di una normale auto è una semplice normale auto nello spazio dai Elon dove è finito lo specchietto retrovisore è stato perso durante il lancio dai Elon ti spiego che non è stato perso è che proprio non volete che si veda la quarta parete non volete che si veda a riflesso la parete dello studio mica siete così stupidi da permetterci di vedere cosa succede sul retro di quello che vedremo sullo specchietto retrovisore o no semplicemente gli stessi seggeli di una normale auto guarda qui le tue semplici normale auto e non con lo specchietto retrovisore dai lo avete smontato apposta dal roadster e perché questo perché non volete vedere alcun riflesso della quarta parete è giusto e poi com'è che non avete messo qualcosa sul sedile vicino al manichino voglio dire come mai non avete messo nulla che si possa muovere ad esempio perché non avete messo un manichino fuori dalla tuta in modo che si possa vedere qualcosa in movimento con l'assenza della gravità che ne so una catenina un filo la parrucca di un manichino giusto per vedere cosa succede senza la gravità scusa Elon ma tutte le cose sono così fisse che è difficile per me credere che la macchina sia veramente nello spazio sai nei film sanno fare cose molto meglio che mostrare una cosa così perché non c'è nulla che possa muoversi è tutto così fissato magari una bella bandierina degli stati uniti d'america che sventola nel vuoto dello spazio come è successo per quella sulla luna proprio nulla che possa simulare la gravità magari che ne so un albre magic al posto dello specchietto retrovisore così da profumare lo spazio anche perché visto che avete messo quella piccola roadster con quel piccolo star man sul cruscotto per quale motivo lo avete fatto se osservate bene sul cruscotto c'è una piccola roadster con un piccolo astronauta l'ho fatto una piccola hot road roadster un mio amico mi ha mi ha suggerito perché non metti una hot road roadster con un piccolo astronauta anche sopra la macchina grazioso certo così l'ho fatto ma per quale motivo l'hai fatto Elon capisco che ha inviato la macchina lassù per testare i materiali ma nello spazio avresti dovuto mettere un compagno un manichino vicino senza alcuna tuta con i capelli così per vedere come si muovono che ne so magari si comportano nello stesso modo di quando si è in acqua anziché lassù col sole diretto e con i movimenti senza gravità com'è che non avete messo niente per farci ammirare come funzionano queste cose senza la gravità ecco perché sono convinto che è tutto girato in studio e poi Elon avevi detto che la telecamera durava dieci ore ricordi ed è stato proprio così non c'è più alcuna telecamera che funziona dal vivo adesso e magari che ne so poi la macchinetta sbaglia sbaglia marte e va a finire chissà dove ma magari dura milioni di anni sto scherzando dai avendo sentito i numeri che hai raccontato a dubai scherzo si dai non ha alcun senso ma magari avresti potuto prevedere dei pannelli solari come sulla iss così avresti potuto usare altre telecamere per tenere in contatto gli spettatori vedi Elon sulla iss hanno centinaia di computer portatili un sacco di apparecchiature aria condizionata microonde per scaldare le pizze tanto per dirne una e funziona tutto quanto con i pannelli solari penso che avresti potuto fare facilmente la stessa cosa se veramente avessi voluto farlo ma ci hai fatto vedere un paio di flash e poi via verso marte così nessuno poi ci farà più caso e pensare che la tesla motors è quella più avanzata che ha sviluppato pannelli solari ovunque sui suoi modelli di automobile alimentano la batteria ad esempio per le abitazioni hanno anche delle unità che si possono installare ovunque ma qui sulla roadster niente a proposito eh no com'è che in questo momento il sole illumina la terra e non la tua preziosa macchinetta e non la tua preziosa macchinetta